Amiche d'amici di Montediprocita.com, siamo con il primo cittadino del piccolo paesino Flegreo, il dottor Paolo Francesco Iannuzzi, riconfermato presidente dell'Anci Campania. Un'altissima partecipazione da parte di tutti i sindaci della Campania. Abbiamo votato, senza alcuna pressione, con grande libertà, al di fuori degli schemi. Il risultato premia, a mio parere, il buon governo del presidente Caldoro, che vede nella coalizione di centrodestra la mia espressione. Ma al di là del fatto politico, io ritengo di aver avuto consensi anche trasversali, un po' da tutti, che in questo anno di attività hanno ritenuto di premiare un impegno a sostegno delle giuste esigenze, e delle tante legittime aspettatine dei cittadini campani. Hanno votato il 77% dei sindaci della Campania, su 551 comuni, quindi più di 400. Quindi un risultato veramente che mi dà forza e mi fa continuare un impegno a favore delle tante esigenze dei nostri cittadini. Presidente, tra i mille obiettivi ce n'è uno proprio che le sta a cuore? Beh, qualcosa che forse ai cittadini dice nulla, il patto di stabilità interno. C'è un meccanismo perverso che non consente ai tanti comuni italiani e quindi anche ai comuni campani di non spendere le risorse che si hanno in cassa. Quindi molto spesso i servizi hanno qualcosa di negativo per una legge che noi riteniamo bisogna cambiare. E allora noi le auguriamo buon lavoro. Grazie. 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 Grazie.